Ed epocrisia è quel modo di vivere, di agire, di parlare, che non è chiaro. Forse sorride, forse è serio, non è luce, non è tenebra. La serpa si muove in una maniera che sembra non minacciare nessuno, come la serpe. Ma c'è il fascino del chiaro-oscuro. C'è il fascino di non avere le cose chiare, non dire le cose chiare. A hipocrisia è quella maniera di vivere, di agire, di parlare, che non è clara. Talvez sorri, talvez è séria. Non è luce, non è scuridà. Move-se di una maniera che sembra non ameazare a nessuno, come la serpente. Ma c'è il fascino del chiaro-oscuro. C'è il fascino di non avere le cose chiare, di non dire le cose chiare. C'è il fascino della mentira, delle le cose chiare. Aos fariseus hipócritas, Jesus dizia também che erano cheios di si mesmos, di vaidade, che a eles agradava passear nas prazzas, mostrando che erano importanti pessoas cultas. Na Capela da Casa Santa Marta, o Papa Francisco advertiu para o fermento dos fariseus, a hipocrisia, um vírus che leva às trevas e à morte. Disto, a exhortação para rezar ao Pai che sta no céu, che ama a tutti e cuida di tutte le cose chiare. Grazie a tutti.